ideona per un aperitivo con gli amici o anche semplicemente in famiglia ho preso quattro zucchine e le ho divise in quattro parti come vedete quindi a metà e poi metà e metà mi sono spiegata sì ho messo il sale e lo lasciate da parte ora ho messo 45 cucchiai di pangrattato in un contenitore lo stesso anche con del formaggio grana o parmigiano pepe sale paprika poi ho preso delle erbette fresche quindi erba cipollina e basilico fatto sminuzzato tutto l'ho unito al pangrattato il formaggio eccetera dopodiché ho mischiato e ho lasciato anche questa da parte prendiamo due uova due uova che sono sufficienti per le zucchine che ho detto che erano quattro zucchine mettiamo sale e pepe nelle uova abbattiamo lasciamo da parte tutto da parte sì poi prendiamo la farina anche qui tre quattro cucchiai in base a quanto ne serve guardate un po prendete degli stuzzicadenti e infilate ogni pezzo di zucchina è troppo carina come idea e dovevo condividerla assolutamente è geniale è geniale farete un figurone accendete il forno a 180 gradi intanto preparate le carda da forno con carta forno qualche spruzzo d'olio prendiamo le nostre zucchine e le mettiamo prima nella farina poi nell'uovo e poi nel pangrattato quindi farina uovo pangrattato non vi toccate neanche le mani pensate quanto quanto è geniale mettiamo nella leccarda da forno appunto lasciamo nel forno per almeno 30 minuti controllate sempre il forno questo è il risultato risulteranno croccanti fuori e morbide dentro sono spettacolari sono spettacolari abbinatevi con delle salsine guardate un po mamma mia mamma mia una tira l'altra e ve lo assicuro vi è piaciuta e allora vi aspetto alla prossima ciao